Buongiorno e benvenuti sul mio canale YouTube, sono con voi a commentare la partita tra Catanzaro e Bari, giocata ieri, domenica 21 marzo allo stadio Ceravolo, finita 2-0 per il Catanzaro, gol entrambi nella ripresa, ha aperto le marcature di massimo al suo primo gol al Ceravolo dopo 4 realizzati in trasferta, l'ha conclusa al novantesimo, Felice Avaco con un tocco sotto che ha battuto frattali, ottimo pararigori sin qui in questo campionato, gol numero 200 tra i professionisti per l'eterno Benjamin Button, così come ormai soprannominato dal telecronista e amico Matteo Pirritano di Eleven Sports. Successo per il Catanzaro significa ancora di più concretamente assalto al terzo posto, terzo posto che ipoteticamente è del Catanzaro se i giallorossi andranno a vincere la partita che si giocherà mercoledì alle ore 14 contro la Cavese, ultima in classifica. Due, i tabù da sfatare per gli uomini di Mr. Calabro nel match che si disputerà fra due giorni, il primo riguarda il terzo successo consecutivo che sin qui non è mai arrivato, il Catanzaro si è sempre fermato massimo a 2. Il secondo riguarda i turni infrasettimanali, i turni giocati di mercoledì nel 2021, dopo quei 40 minuti contro la Viterbese sono arrivate 3 sconfitte di fila contro squadre campane, Paganese, Casertana e Avellino. Quindi questi due tabù da sfatare per un Catanzaro che ha nelle corde questa possibilità, perché? Perché il Catanzaro visto ieri contro il Bari ha dato conferma rispetto già a quanto visto precedentemente, decima vittoria in casa su 15 partite per un totale di 33 punti, una squadra che ha confermato ancora una volta le proprie qualità. Perché? Perché la partita si era già messa in difficoltà, perché dopo 5 minuti Mr. Calabro ha dovuto rinunciare a Capitan Corapi e ha dovuto ridisegnare così l'intero assetto della squadra di Massimo Erretrato a fare l'interno di centrocampo. Baldassin si è posizionato sul centrodestra, poi i due si sono scambiati nella ripresa, Verne è andato a fare il play basso, insomma qualche giocatore fuori lontano dalla posizione sua ideale. Eppure la squadra ha risposto nel miglior modo possibile, compatta, spirito di sacrificio, concentrazione, attenzione richiesta dall'allenatore alla vigilia, concedendo veramente molto poco al Bari. Un colpo di testa di Cianci, a mio avviso in posizione di fuorigioco, poi il guardaline non ha sventolato la bandierina, quindi miracolo di Di Gennaro che ha dimostrato ancora una volta perché in questo momento è lui il titolare. Poi nella ripresa il Catanzaro aveva concesso solamente una grossa palla goal al Bari proprio prima del rigore di evacuo che poteva significare il pareggio, però a mio avviso sarebbe stato anche immeritato. Immeritato perché il Bari è venuto a Catanzaro, invece ha messo in evidenza tutte le sue lacune, tutte le sue ferite. I pugliesi non stanno vivendo un bel momento di forma, quattro sono i turni senza vittorie e Catanzaro che ha la possibilità di superare in classifica i Galletti. Un Catanzaro che ha dimostrato ancora una volta di che pasta è fatto, è una squadra sin qui che ha dimostrato che può vincere e perdere contro chiunque, però la sensazione è che ormai i giallorossi abbiano una chiara identità di gioco, una chiara identità anche di spirito. Il Catanzaro è una squadra, è un gruppo, basta vedere ogni volta che la squadra comunque sia vince al termine della partita, riunirsi in quel cerchio, basta scorgere gli sguardi di grinta, di determinazione sui volti dei giocatori giallorossi, dell'allenatore Mr. Calabro che ormai ha conferito questa identità alla squadra, ormai sono quelli gli uomini ai quali si sta affidando il tecnico. Catanzaro che quindi può sicuramente ambire al terzo posto, però è anche giusto a mio avviso guardarsi le spalle, c'è una Juve Stabia che sta andando veramente a ritmo elevatissimo. Catanzaro che avrà da qui alla fine del campionato altri due scontri diretti, molto importanti, molto delicati e rapida successione tra l'altro. La quart'ultima giornata i giallorossi faranno visita alle Vespe, mentre nella terz'ultima le Acquire ospiteranno il Catania. Però la sensazione, l'impressione che c'è è che il Catanzaro, specialmente tra le Muramiche, è una squadra veramente difficile da affrontare. Ieri contro il Bari non è stata la prima volta che gli uomini di Mr. Calabro hanno avuto di fronte comunque una squadra forte. Mi viene in mente specialmente tipo al girone ad andate il Teramo, che venne al Ceravolo giocando con la miglior media in quel momento dell'intero girone, eppure fu battuto per 1-0. Al Ceravolo è caduta anche la stessa Ternana. A mio modo di vedere vorrei rigiocarla, la preta con l'Avellino, giocandola entrambe con dieci giorni di riposo e soprattutto con l'attenzione da parte dell'arbitro e delle guardaline sul gol di Bernardotto, perché è impossibile. Non fischiare quel fuorigioco, però con i secconi ma non si va da nessuna parte. Bisogna guardare al futuro, un futuro che per il Catanzaro può essere importante se i giallorossi continueranno a fornire questo tipo di prestazioni. Mercoledì si affronterà una partita completamente differente rispetto a quella contro il Bari, perché il Catanzaro dimostra contro le squadre forti, contro le squadre che giocano e lasciano giocare, di essere quasi a proprio agio. Un po' più in difficoltà, i giallorossi vanno contro le squadre comunque che si chiudono. Diciamo che se il Bari è terzo attualmente in classifica, la Cavesi invece occupa l'ultima posizione e sappiamo, conosciamo la grinta che ci mettono le squadre che lottano per la salvezza, specialmente nei match in casa. Quindi, Catanzaro che è chiamato a confermare quanto visto contro il Bari e a smentire quanto visto sin qui, specialmente in alcune partite in modo particolare in trasferta. Ripeto, è nelle corde delle Aquile vincere a Cava dei Tirreni. La partita, naturalmente, come sappiamo, si sarebbe dovuta giocare mercoledì scorso, non si è giocata per la scomparsa dell'allenatore in seconda della Cavese, Antonio Vanacore, nonché ex calciatore del Catanzaro, vestire la maglia giallorossa nella stagione 2004-2005. Il dato, invece, che emerge ancora di più dopo la partita contro il Bari riguarda innanzitutto i gol fatti dai giallorossi, 23 su 34 nel secondo tempo e undicesima volta che le Aquile hanno concluso senza subire gol la settima. In casa, numeri importanti per il Catanzaro, che ha un futuro importante, una stagione che è ancora, come dico sempre, tutta da giocare, perché dopo la regular season ci saranno i play-off, play-off che il Catanzaro può arrivare a giocare, con una posizione decisamente importante. Tra l'altro, volendosi sbilanciare, Catanzaro, se dovesse vincere a Cava dei Tirreni, va a 54. L'Avellino ne ha 60 del secondo posto, Domenica Cetternana-Avellino. Chissà, chissà quello che succederà da qui alla fine del campionato. Chi vivrà vedrà, come si dice, però il Catanzaro sicuramente può giocare le sue carte, è questo quello che emerge fuori da Catanzaro Bari.